qui si arriva in strada, si fa 10 metri di tappo, si ributta, scelgite, scelgite io vengo a vederlo a voi perchè io per il nome non ne sono nemmeno, facciamo morirci, vai, vai fai è vero non nemmeno, c'è un paolo, in Stefano, a weren'to, è vero non nemmeno, sono in un po' di tempo da la tua nariz, vediamo un po' di Lorenzo, Quattro il nostro corso gratuito Grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Pollo Buon appetito! Questa è la sua guarda un po' che c'è scritto che c'è scritto lì? Rock and roll? Vieni, vieni viaggio o che c'è scritto. O che c'è scritto lì? O che c'è scritto lì? O che c'è scritto lì? La Paglia Sì, sì. L'Ottawa La Paglia a presto Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Adio. Grazie. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.